Con la nomina di Cristian Fanese candidato sindaco di Fano si è chiusa una prima fase, ora prosegue il confronto con l'area progressista? Sì, il Partito Democratico si è espresso nella settimana scorsa, abbiamo fatto un'assemblea comunale, un'assemblea elettiva, quella uscita dal congresso ed abbiamo individuato nella persona del vice sindaco Cristian Fanese la persona che rappresenterà il Partito Democratico sul tavolo del centro-sinistra e poi ci siamo visti anche con la maggioranza. Intanto va detto che la maggioranza attuale che governa la città è una maggioranza unita, quindi il fatto che questa maggioranza sia unita, che abbia deciso già di presentarsi insieme alle prossime elezioni amministrative è già un valore ed è un valore che va tenuto ovviamente in cassaforte e non va né disgregato né depauperato. La volontà è quella di provare, di tentare, c'è già stato un primo incontro, di provare ad allargare questa alleanza cercando di fare in modo che possa nascere un'alleanza più larga, un'alleanza più ampia dove nessuno si senta ospiti ma dove tutti possano giocare una partita da protagonista, quindi una nuova idea di governo che dovrebbe partire dal 9 giugno dell'anno 21. Questo cosa significa? Significa che ci siamo rivisti come maggioranza attuale, abbiamo tutti quanti convintamente condiviso la possibilità di fare un secondo incontro con l'area quella cosiddetta progressista, chiamiamola così, questo è il nome che si sono dati, cercando di capire se ci sono delle convergenze. Quali sono i temi che potrebbero far saltare questa alleanza? Su temi di carattere amministrativo che possono riguardare un manifesto programmatico per andare uniti ad una campagna elettorale, quindi dare una prospettiva ai prossimi 5-10 anni di governo della città di Fano, sui temi non si è voluti entrare all'incontro precedente perché la condizione che è stata apposta è che noi siamo contrari alle primarie. Noi adesso a questo punto, dopo che sono uscite le candidature del centro-sinistra, ci sono le candidature delle liste civiche, c'è la candidatura del Partito Democratico, andremo ad un confronto con questi nominativi, andremo ad un confronto che speriamo e auspichiamo possa essere positivo ed anche propositivo. Dopodiché io ribadisco sempre senza vetti da parte di nessuno perché se si va al tavolo mettendo subito dei paletti si fa fatica anche a ragionare, quindi quando c'è la volontà di sciogliere i nodi, la volontà in qualche modo, le possibilità e le opportunità si costruiscono anche insieme. Considerando sia i papabili, sia i nomi già confermati, crede che il PD riuscirà a prevalere in questa tornata amministrativa, l'andamento dei partiti nazionali può influire in qualche modo sul voto dei fanesi? Ci sono dei sondaggi che dicono che l'amministrazione uscente gode di una certa fiducia da parte della città, sono sondaggi che ovviamente ci dicono che il giudizio sull'amministrazione comunale uscente è positivo. Noi siamo teoricamente, lo dico tra virgolette, la prima forza politica di questa alleanza, i sondaggi anche qui ci danno sempre intorno ad una percentuale alta che è più o meno il trend nazionale qualcosa in più su Fano, ma è un dato storico.